Salve, allora mi chiamo Tommaso Chiappa e sono il professore di questi fantastici ragazzi della Quarta Egeria dell'Istituto della Fondazione Orsolini di Saronno. Questo è il primo lavoro che vi voglio far vedere perché questa è una mostra interamente realizzata con i ragazzi su Picasso, su Pablo Picasso, grande artista del Novecento, cubista e tutti i ragazzi, soprattutto la Quarta Egeria, hanno collaborato a creare una grande mostra, una grande mostra su questo grande artista, il grande artista spagnolo. La mostra è itinerante, parla interamente quasi tutta di Picasso, nella seconda parte della mostra abbiamo realizzato delle tavole su altri artisti del Novecento. È una mostra dinamica, infatti i ragazzi hanno fatto una sorta di laboratorio artistico con i ragazzi più piccolini, delle elementari e quindi hanno fatto disegnare durante la mostra che si è inaugurata domenica 19 maggio. È stato un progetto molto difficile perché non si è lavorato solo sulle piccole dimensioni ma come potete vedere, poi vedremo anche nell'altra parte della mostra, i ragazzi hanno lavorato pittoricamente su pitture di grandi dimensioni, quindi utilizzando la tecnica dell'acrilico o tecniche miste su tavola e su compensato. Allora, proseguiamo la visita guidata a Picasso Lab, la mostra che è stata svolta dai ragazzi della Quarteggeria della Fondazione Orsolini di Saronno insieme alla collaborazione del professor Chiappa. Ecco, volevo far vedere una serie di lavori molto molto interessanti che raccontano un po' l'evoluzione pittorica di Picasso, interamente realizzati dai ragazzi e qui voglio sottolineare anche la tecnica dall'acrilico alla tempera e l'acrilico misto fino ad arrivare quasi all'olio, quindi una pittura molto molto incisiva fino ad arrivare di nuovo alla tempera per poi concludere con sempre tempere e tecniche miste. Qui possiamo vedere tutta l'evoluzione del Picasso, dal Picasso figurativo fino ad arrivare quasi alla scomposizione della realtà. Questo laboratorio, svolto principalmente dai ragazzi della Quarteggeria, chiaramente ha coinvolto anche altre classi. Abbiamo coinvolto la seconda del sociosanitario e anche la Quinteggeria, quindi è stato un laboratorio che ha coinvolto più classi. Naturalmente i ragazzi della Quarta hanno svolto anche il ruolo di tutor nei confronti dei più piccoli e hanno aiutato alla produzione proprio pittorica e artistica di tavole inerenti proprio al tema principale che era Pablo Picasso. Ma ora ci spostiamo dall'altra parte e vediamo l'evoluzione degli altri artisti rappresentati in mostra. Ci troviamo sempre in biblioteca, la mostra Picasso Lab realizzata con i ragazzi della Quarteggeria. Ecco, qui ci troviamo fra due grandi dimensioni lavorate per tutto l'anno. Questo chiaramente non è Picasso, non è Pablo Picasso, che vediamo invece qui raffigurato sulla sinistra un altro grande lavoro su cartone. Questo è un artista anni Ottanta, si chiama Kate Herring. Kate Herring è un artista sul quale hanno lavorato i ragazzi della Quarteggeria e hanno potuto costruire una gigantesca tavola utilizzando tempere, acrilico e pennarelli. Hanno lavorato su un artista che utilizza una simbologia abbastanza semplice, questi piccoli omini che si muovono al ritmo di musica anni Ottanta, ma sono riusciti a fare secondo me un ottimo falso. Quindi la mostra prosegue con altri artisti del Novecento, molto molto interessanti, questo è un artista contemporaneo perché è morto agli inizi degli anni Novanta, quindi volevo farvelo vedere perché, insomma, secondo me è una realizzazione che non ha nulla da togliere al grande Kate Herring, grande artista degli anni Ottanta. Ok, ci troviamo sempre alla mostra Picasso Lab, realizzata dai ragazzi della Quarteggeria e qui vediamo altri artisti, naturalmente al centro c'è sempre un richiamo al maestro spagnolo, quindi il tema è sempre un laboratorio su Picasso, ma vediamo altri artisti. Questi due sono artisti iperrealisti, quindi utilizzano la fotografia e i ragazzi hanno riprodotto in maniera fantastica, devo dire, dei paesaggi urbani, quindi utilizzano il paesaggio urbano in maniera quasi, in chiave quasi fotografica, quindi è una pittura che si avvicina alla fotografia e quest'ultimo quadro infatti fa vedere proprio l'evoluzione che c'è tra il lavoro di Picasso che logicamente è un lavoro non figurativo e che non guarda la realtà, con un lavoro prettamente figurativo, quasi fotografico, quindi l'immagine di questo uomo che attraversa una città all'interno di una metropolitana. I ragazzi naturalmente, avendo visto a settembre la grande mostra su Picasso tenutasi a Palazzo Reale, hanno potuto vedere da vicino proprio il lavoro del maestro spagnolo. È un lavoro che spesso non è solo pittura, come vediamo in questa realizzazione, ma è l'utilizzo anche di più materiali, quindi carta, cartone, materiali di recupero che vengono utilizzati per creare un'opera che non è più solamente un'opera pittorica, ma è un vero e proprio opera che utilizza più materiali, quindi possiamo dire quasi un 3D, quasi una scultura pittorica. Ecco, qui vediamo invece non più opere solamente pittoriche, ma bensì una vera e propria scultura 3D. Ecco, i ragazzi, in questo caso la ragazza, ha sfruttato un cartone, quindi un supporto molto molto rigido e qui ha utilizzato e ha cercato di ricreare alcune delle sculture che possono avvicinarsi ad alcune sculture che abbiamo visto proprio alla mostra di Palazzo Reale di Picasso. Questa sintesi della figura e questo utilizzo della scomposizione attraverso l'utilizzo dei colori primari, soprattutto. E quest'opera è molto molto pittorica, ma è una vera e propria scultura, quindi un nuovo modo di rielaborare il lavoro di Pablo Picasso. Allora, qui ci troviamo in una parte della mostra dedicata, come ho detto, a Picasso Lab, ma qui vediamo raffigurato un altro artista del Novecento della Scuola di Parigi, che è Marc Chagall. Marc Chagall, insomma, è uno dei più grandi artisti del Novecento, a mio avviso, che non partecipa a nessun grande movimento. Qui, vedete, proprio loro hanno realizzato una bellissima riproduzione di un quadro di Chagall. Roberta, che tipo di tecnica e come avete lavorato per la realizzazione di questo quadro? Allora, per l'opera di Chagall abbiamo lavorato insieme, suddividendoci le parti. E la tecnica? Abbiamo usato una tecnica mista ad acrilico e con le tempere, utilizzando la riproduzione che il prof ci ha consegnato. Devo dire che il risultato, come potete vedere, come hanno visto tante persone che sono venute proprio alla mostra di domenica, è stato veramente un ottimo risultato, calcolando che le ragazze provengono non da un istituto d'arte o da un liceo artistico, ma che hanno fatto questo unicamente in un laboratorio diviso per due ore settimanali. Quindi hanno fatto un grande lavoro e un lavoro pittorico eccellente, a mio avviso, che non ha nulla da togliere ai grandi licei artistici e alle altre scuole. Ci troviamo sempre alla mostra Picasso Lab e questo è un angolo della mostra dove i ragazzi hanno lavorato con i bambini delle elementari e hanno provato a creare una sorta di laboratorio all'interno della mostra. Quindi i ragazzini potevano venire qui a questi tavoli, guardare la mostra e continuare a disegnare. Chiaramente sono stati bravissimi perché hanno svolto il ruolo di tutor, quindi hanno aiutato i bambini, oltre che a disegnare guardando Picasso, proprio a venire fuori con tutta la creatività ed è stato un bel momento di interazione, interazione fra i ragazzi grandi, quindi coloro che hanno montato la mostra e soprattutto i bimbi più piccoli. Lorenzo, come vi siete trovati in questo, diciamo, laboratorio improvvisato all'interno della mostra Picasso Lab? Allora, principalmente i bambini iniziano a venire qua e disegnano quello che vogliono. Successivamente alcuni bambini hanno trovato spunto dalle opere, perciò è avvenuta una reazione a catena per il quale i bambini prendevano spunto dalle opere che abbiamo creato noi, che abbiamo mostrato e perciò disegnavano e sono uscite delle opere bellissime da bambini che avevano dai 6 ai 12-13 anni. Quindi, proprio la bellezza è stata proprio questa, cercare di creare un richiamo soprattutto ai più piccoli, quindi la mostra che parla di storia, che parla di artisti storicizzati e può essere un inizio per avvicinare i bambini all'arte e alla pittura. Ci troviamo qui sempre alla mostra del Picasso Lab, anche qui un'evoluzione partendo dal maestro Picasso, ci siamo spostati su altri artisti, soprattutto artisti della pop art americana, quindi un'arte americana che nasce all'intorno negli anni 60 in America, che ha con Andy Warhol il principale esponente, ma qui vediamo Lichtenstein, che è un altro grande artista che lavora, diciamo, partendo dal fumetto, quindi una realizzazione che parte dall'idea del fumetto, queste figure, la comunicazione attraverso proprio quest'arte popolare che nasce proprio a metà degli anni 90. Spostandoci possiamo osservare anche il lavoro di Matisse, un altro artista del Novecento, insomma, che si concentra sul colore, quindi questi artisti si concentrano soprattutto sull'utilizzo del colore, e poi vediamo un altro artista che è sempre cubista e amico di Picasso, ma è Braque. Braque è, insieme a Picasso, l'inventore del cubismo. E l'inventore del cubismo è, come lo possiamo vedere, c'è qui, in questo paesaggio con case, appunto una scomposizione della realtà. Proseguendo, vediamo altre tavole, una che fa sì che possiamo rileggere alcuni degli artisti del surrealismo, quindi vediamo la pipa di Magritte, il carnevale di Arnelchino, alcuni dettagli che ci fanno capire che siamo all'interno del surrealismo, e qui un'altra rienterpretazione del mondo della pop art americana, con queste labbra che un po' ci possono ricordare quelle dei Rolling Stones, quindi la musica, anche rock, anni Ottanta. In questo caso c'è l'utilizzo sempre della serialità, della serialità di un unico soggetto. Ecco, loro sono parte della classe quarteggerie, che è riuscita in un anno di lavoro a creare una vera e propria mostra itinerante su Picasso, e come abbiamo visto non solo su Picasso, quindi con altri artisti. Basti pensare a Chagall, a Richard Estes, a Magritte, insomma, tanti tanti artisti. Sono stati tutti loro in un grande laboratorio che ci ha visto impegnati dall'inizio dell'anno, addirittura loro ora faranno uno spettacolo teatrale, quindi una classe particolarmente attiva sull'aspetto creativo e sull'aspetto pittorico. Stiamo realizzando delle grandi dimensioni su Kate Haring, e vi lasciamo con un video realizzato sul loro lavoro e sulla mostra Picasso Lab, realizzato in collaborazione con la professoressa Cattaneo, che lavora sempre qui alla Fondazione Orsoline di Saronno. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento appunto alla mostra Picasso Lab, che si tiene in biblioteca alla Fondazione Orsoline di Saronno. Grazie a tutti! Grazie a tutti!